Io invece vi parlo di sport con il libro La scienza del respiro di Mike Maric da uno scienziato e campione di apnea La ricetta per dire addio allo stress, migliorare la salute e vivere a pieno Questo libro ha vinto il primo premio della sezione tecnica al 52esimo concorso letterario CONI